Strada Valsugana, appena dentro il territorio comunale di Cittadella. Un camion frigo tampona violentemente un furgone con a bordo due artigiani, gli idraulici Mirko e Daniel Libralato, appena ripartiti da casa dopo pranzo nella vicina Sant'Anna Morosina. Il furgone urtato finisce sulla corsia di marcia opposta. Un miracolo che in quel momento, sulla SR47, non arrivi nessuno. Il padre dei due artigiani, Graziano, è scioccato e commosso. I suoi figli sono ricoverati a Cittadella e Campo San Piero. Per fortuna avevano le cinture, è vero? Sì. Mi ha salvato la vita, mi sa. Eh sì, perché guardando com'era la dinamica, potrebbe essere tanto più peggio. Subito dopo l'urto al furgone, il camion frigo, di proprietà di una ditta di Mirano e diretto a Caerano San Marco, ha centrato da dietro la Corriera Bus Italia Tre Assi, diretta a Bassano. Feriti l'autista e sei passeggeri, tutti ricoverati tra gli ospedali di Cittadella e Campo San Piero. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto, la polizia locale di Cittadella e gli addetti alla pulizia del manto stradale. La circolazione è stata fatta deviare su strade minori di San Giorgio e Cittadella. Lungo la regionale 47 c'erano diversi gruppi di studenti che tornavano a piedi verso Padova, in attesa della riapertura al traffico della strada.